Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi torniamo su Poppy Playtime capitolo 3 L'ultima volta abbiamo affrontato la casa dolce casa, capitolo un po' lunghetto devo dire Non, il video è venuto abbastanza corto perché ho fatto una marea di tagli ragazzi Ma lì ci sono stato almeno un'ora e mezza per fare quell'episodio Quindi oggi andiamo ad iniziare la scuola sperando che non ci perda altre due ore per fare questa cosa Quindi mi raccomando come sempre invita a lasciare un bel pollicello in su ragazzi per questa serie enorme Che sta uscendo, che uscirà di Poppy Playtime capitolo 3 Mi raccomando lasciatelo e niente, iniziamo questa scuola ragazzi Ebbene, forse, forse in questo capitolo Questo capitolo sarà il primo capitolo in cui dovremo affrontare anche un nemico Abbiamo finito il gioco, non proprio Quindi che nemico ci sarà? Cutnap? Oppure qualche altro essere? Non lo so Allora, intanto cominciamo ad esplorare Perché sono uscito io? Sono tornato indietro, me ne voglio andare Perché me ne voglio andare ragazzi? Ecco perché me ne vado indietro io Allora, per favore, andiamo avanti anziché andare indietro Adesso mi ripeto sempre la stessa cosa Allora, qui c'è da prendere energia Per dropparla Ok, credo lì Questo è Mr. Light speaking Please excuse the interruption Students, remain in your seat until the bell has rung And no going in the halls without a hall pass Help? Allora, io l'energia la devo prendere da qui Per lasciarla lì dove Qui, giusto? Vedete che mi allungo le mani inutilmente A posto, eh E andiamo da Da qui Però ricordiamoci che Siamo stati avvisati al fatto che non siamo soli In questo capitolo Quindi l'ho avuto critica ragazzi Oh, altre due batterie Comunque L'hanno fatto un po' ripetitivo Sto capitolo 3, no? Cioè, in ogni zona dobbiamo recuperare le batterie E posizionarle nei rispettivi affari Non lo so Secondo me l'hanno fatto un po' troppo ripetitivo Voi l'avete giocato? Che ne pensate? Oh cacchio, chi sei? Non era CatNap? Ma chi era? Ma è uscita da qui Miss Delizia? Ma è una minaccia o un avvertimento? Mi scusi, signorina Signorina Delizia Mi sa che era una minaccia Eppure un avvertimento Comunque Allora, qua che c'è? Oh, di qua si sale Eeeh, salgo Saliamo Ragazzi Ho paura Ho paura Che facciamo? Se ti attacchi E poi Questa non si apre Ah, vedi là C'è un buchino qua Ok Insigniamoci per questo condotto E qui si cade però No, se non vogliamo non si cade Però sarei dovuto cadere Probabile Ma probabilmente Ah Sì Sarei dovuto cadere ragazzi Ok, mi butto giù E buttati che morbido Prendo batteria Me la rialzo Eeeh Procediamo Per di là E dovremmo sbucare subito In quella zona E una batteria L'abbiamo recuperata E' già un progresso Quindi me la riscendo Azzico Batteria E una Ce l'abbiamo Perfetto L'altra dove cacchio L'avete infilata Scusate Che qua C'è da pagare Due ore Per cercare le batterie Ogni volta Comunque Siamo all'aula di scienza Allora Ah, dobbiamo attivare questo Qui c'è una porticina Chiusa Allora niente Prendo energia da lì Ma da qui posso prenderla E da qui Non c'è né energia Dobbiamo Trasferirci Un'energia Qui Dove era l'unica Energia prelevabile Qua Da queste parti Mi sono perso Qua non è qua Eeeh Invece la batteria E' qua Meno male Non ce l'ho proprio Entrato qui E ve lo dico Che mi perdo In questi giochi Io Vabbè Allora Recuperare la batteria E' stato più facile Del previsto Quindi La zicchiamo qua Tac Prendo energia Troppo energia Dove però Ah ma devo trasportare lì Giustamente Ok Attivo qui Cancello aperto E io tocco tutto E io tocco tutto Oh cassettina Non c'è Dovrebbe esserci Se c'è il registratore C'è anche una cassettina Vedessi qualcosa Più che altro Perché questo gioco L'hanno fatto buio Come la morte Allora Probabilmente c'è Ma va a capire Dove Allora Questa è chiusa E invece è aperta Perché le porte si aprono Dopo otto ore Che tu le premi Che tu tenti di aprirle Più che altro E allora Altra batteria Ma guarda caso La ripetitività Di questo gioco È qualcosa di spaventoso Però Devo dire che Potevano inventarsi Qualcosa di meglio Anziché Posizionare batteri Ovunque Comunque Non c'è niente Buio Sempre come la morte Una torcia Non ce l'abbiamo No? Abbiamo sempre la manuzza Quella fashion Questa è chiusa A meno che Io premo Talmente tante volte Che apro e chiudo Apro e chiudo Apro e chiudo E quindi Non si apre la porta Allora niente La batteria Non sembra essere Da queste parti Qui c'è la cassettina E allora Vado per di qua Altra energia Da portare qua Oh Qual è la novità? È che chiuso È tutto chiuso Lì c'è energia Quindi Non entrare Che devo fare? Ora altre sette ore Per capire O devo trascinarmi Qualcosa qua? No forse Devo scavalcare Semplicemente Con un po' di Calma Ah qui siamo Dall'altra parte No allora Non c'entra niente Cerchiamo Dove recuperare Dell'energia E della batteria Quindi qua Abbiamo visto Che non c'è Né una Né l'altra Credo Ma c'è un altro condotto E allora Prendo il condotto Che varietà La varietà Veramente E allora Prendo per di qua Programmatore Ma che fa? Siete accorti di te? Non sapete più Che cacchio fare Nei vari poppy playtime? Probabile Quindi aspetta Posso passare anche dritto O Posso Ma ho visto Muoversi qualcosa O è stata Una mia impressione Credo di aver visto Qualcosa muoversi È sempre buio Come la morte Perché la luce Qua la pagano Infatti Devo buttarmi Da qua Eh no Mi arriva A lei mi sembra Un po' troppo Milacciosa Per i miei gusti Qui niente Dobbiamo attaccare Mi serve sempre La mano verde Però Questo lo trascino E mi Mi sblocco La shortcut Oh Perfetto A qui prendo Direttamente L'energia Io Ah vedi Qual è l'inghippo La trasferisco Qua E allora La batteria È lì dentro Eh perché Se non è pane È focaccia Presire Non me lo faccio dire Due volte È lei Signorina delizia Ma lei mi vuole ammazzare Ma come Si chiama delizia Ehm Vabbè Andiamo per di qua Salvataggio Perché salvataggio Morirò Probabile Ho una torcia Non serve un cacchio Moriremo Qui Questa si apre No Sappiate che Quando il gioco salva Probabilmente È stata per morire Allora Qui che faccio Prendo energia E la troppo qua Perché no Ah due Mi serve due Qua Ah questo è il palo della luce Ok Poi colpisco là Fatto Fatto ragazzi Eh questo è un po' Il richiamo un po' Pop e pre time 1 Perché è impalata? Posso prendere la batteria La fai prendere? Perché è impalata? Si è bo... Però con gli occhi mi segue Sta cosa è un po' inquietante Mi scusi signorina Ma dovrebbe muoversi E dovrei correre Quindi mi si è buggato il gioco Oppure Salve ma lei mi ammazza Che bru... Ma che cacchio è? Mi scusi Ma che è? Non essere qui Siamo morti ragazzi Eh vabbè Quando il gioco salva È normale Ci tendo a morire Ma perché? Ma non ho capito Oppure è tipo le statue Quelle di FNAF Quelle... Un 2-3 stella Gli endoscheletri Quelli che se tu li guardi Loro si stanno impalati Se tu ti giri Quelli ti seguono Mi sa che è la stessa cosa È perché considerando Che gli sviluppatori Non hanno più idee Nulla di strano È che si siano ispirati A tale forma Però Possiamo provare Adesso io però Devo ricordarmi la strada Perché se quella Me segue E io che mi rimarcio indietro Quale è il problema? Scusa Però vorrei capire Se effettivamente è così Cioè se È così ragazzi È così E quindi me la faccio a marce Scusa signorina Signorina Ma che cos'è Questa Questa pers... Oh c'è una cosa Che cos'è questa Perseguitazione Nei miei confronti Ma io non posso staccarla qua Corre... Ok E me la fuggo Me la fuggo Me la fuggo Dov'è che dove... Ma è velocissima Ragazzi Prenderemo più jumpscare Qui Che su tutti i giochi Che ho portato Nel mio canale Ovviamente A meno che Devo correre Cioè non devo camminare A marcia indietro Però a marcia indietro Mi sento più sicuro Allora È niente Non hanno più idee Questi programmatori Piglio la Piglio la batteria Signorina Più veloce però Non è che ha tutta la vita A dedicarle Me la fuggo Se trovassi la strada Più che altro Me la fuggo Dobbiamo essere super instant veloci Non ho capito il cacchio Che ho detto Però dobbiamo Ma io non tro... Io non mi ricordo la strada Mi sono bloccato Eh tu Tu puoi fare quello che vuoi Ma io mi sono bloccato Signorina Io mi sono bloccato Allora Prima di fare Qualsiasi cosa Cerchiamo di ricordarci La strada Altrimenti Da qui non ne usciremo mai più E la signorina Ci farà jumpscare 800 volte In questo episodio Allora Io una volta che piglio la batteria No? Lì è chiuso Quindi niente Io vado per di qua Io vado per di qua Giro per di qua O forse devo tornare per di qua Sì Inserisco batteria qua E me la fuggo per di là Oh ca... Ma perché? Ma perché? Non ho dato energia io là però So solo che dobbiamo correre Correre Pigliare batteria E correre Correre Come se non ci fosse un domani Azzicco batteria E me la scappo per di Il problema è che rimane aperta Oppure... Ecco brava Che fa? Mi vuole sfidare? Adesso già... Che cacchio è? Sembra il meme Quello... Dai no Questa... Sta cosa non vale Però dai Ma... Ma scusate Ma se la grata è chiusa L'ho già fatto 800 volte sta cosa Avanti Troppa la batteria Che mi metto con la schiena Ecco E' stata ferma ciccia Scorri cicci Ma non mi avvicino più Perché lei citta Non è che posso fare altro io La guardo così da aspettare Che si chiuda la sala cinesca Altrimenti entra Però poi me ne vado Me ne vado Me ne vado Non mi dire che mi... Nooo Ma non è possibile Ma non è possibile Io che cacchio devo fare Allora La sorella Oh cacchio Dai Dai E lei mi può ammazzare Quanto vu... Vuole Cioè non solo Oltrepassa le grate Quindi non aspetto Allora che si chiuda la grata Ma dobbiamo Prendere l'energia Portarla lì E dire che l'ho fatto Ma l'energia in mano Ti dura talmente poco Che non ce la fai lo stesso Insomma Ragazzi Non mi sta entusiasmando Più di tanto Sto capitolo 3 Che ne pensate Non lo so Non mi sta convincendo Voi che ne pensate Me la corro direttamente qui Non c'è motivo di aspettarla Me la corro Non lo so Non mi sta entusiasmando Voi che ne pensate Ma la sto rushando Non so per dove Ma me la sto rushando Non si vede pure un cacchio Non si vede Run Eh lo capisco run Lo capisco run È proprio quello che sto facendo Eh qua Mi sa che Ma la prendono Perché mi so Che poi non solo Perché tu non vedi niente Il bello è pure quello Entra È chiuso Oh cacchio Scusa Che poi Ti devi rifà tutto da capo Cioè dal momento in cui L'incontri Giro giro Mi sto aggrovigliando Oh cacchio Mi scusi signorino Non volevo farlo La devo prendere sempre da qui Mi scusi Non lo volevo fare Non lo volevo fare Sono stato obbligato Vai Vai che lo apro Vai che lo apro Vai insinuati Ma devo correre ancora Basta Sono stufo Sì vabbè Uscita ragazzi L'uscita L'uscita è qui Dov'è la mia mano? Ho perso la mano Ok Dov'è? Oh merda Via Apri sta cacchio di porta Che è successo? Si è staccato Ma come si è staccato? Salve Perché si è staccato? No raga Io troppo il gioco Io troppo il gioco Io troppo il gioco Tutto da capo Ma io troppo il gioco Faccio prima Questa difficoltà gratuita Perché? Perché non sapevano Che cacchio inventarsi Quindi allungano il gioco In questo modo Dobbiamo essere super mega veloci Io non so più dove sia lei Mi sto fermo qua E via Ok Non mi dia Devo recuperare le batterie Con lei che mi No raga Sta cosa non è giusto però Cioè mi devo fare tutto il gioco Così Non vedo niente Le bat Una batteria è qua Ma che va a marcia indietro? Ok Quindi Devo inserirla lì La batteria Questa cosa è veramente brutta ragazzi Almeno un checkpoint qua Ci stava Però si è aperta Brutto 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 capitolo ragazzi Fatto tutto così Con lei che vi perseguita È veramente brutto Ma se io stacco la batteria Qui amolo qua Mi porto una batteria Appresso E forse è questo L'inghippo Almeno abbiamo più batterie Dico Ok Eh quello ancora mi perseguita Perché è una faccia di capra Ok Qua piglio E mollo Piglio E almeno abbiamo una batteria in più Che è niente Forse ho perso un sacco di tempo Però va bene così E dico Abbiamo una batteria in più Dove cacchio devo andare però Di qua Di qua Attenzione alla ciccia Non so dove cacchio Non so dove cacchio è Aiuto La sento Ok Allora Organizziamoci Signorina Quanto meno Ho una batteria in più C'è da capire Là Come fare Allora Allora Se si insinua Magari Venga 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 No Da lì No però Da qui Da qui C'è la stradina Qua è fonte Piace Via 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 Allora Questo dove lo ficco Qua Se io riuscissi A tenerla lì dentro Solo che quella esce Perché è una brutta persona Però ci provo Dai C'è una batteria Là Chi ha la vista Dai Pigliala La piglio con questa Che è più lunga In teoria No Ho presa Ok Dove potrei lasciarla Questa Questa mi serve Per entrare qua Però ho paura Che mi faccia Jumpscare Signorina Lei è troppo Perseguitatrice Per i miei gusti Ah So faccia dire Voglio chiuderla Lì dentro Correte quanto cacchio vuoi Ti chiudo qua Quanto meno Prendiamo un po' più di tempo Non la chiudo definitivamente Ma perché sta porta Ma perché sta porta Scusami Io che faccio il casino Per aprirmi le barricate Com'è che abbiamo le porte Qua Questa si è aperta Ma che c'è porta pure là Scusami C'è una porta pure là E allora posso Prendere l'energia Da lì E uscire dalla porta Fammi un po' vedere Ah guardala Sa Ma che ci va Pietate Mi scusi Signora Ok Io adesso Posso prendere l'energia Da qui Quindi basta Chiudere qua La signorina La incasso là dentro Mi metto La batteria Qui Io posso Prendere l'energia Sa la signorina Si sposta Però io prendo L'energia Venga venga Signorina Lei è un po' insistente Se lo faccia dire Lei è veramente Un po' troppo insistente Quindi Io prendo Energia Da Qui Ahà E arrivederci Alla prossima Signorina Me ne vado E' dritto Per dritto E non credo Ci sia altro Da fare No Dritto per dritto Restart Access Eh Eh volevi Voleva signorina Questa la piglio io Così per ricordo No Abbiamo fracassato La signorina Ottimo Direi Quindi Abbiamo finito il gioco E' dritto E' dritto E allora E' dritto E' dritto Salgo Salgo E' dritto Quindi salto per di qua Cercando di arrivare Cercando di arrivarci Poi se quella Deve toccare questa Questa di conseguenza Deve toccare Qualcosa Da queste parti Probabile Dall'altra parte Ok Poi Quella lì Che deve fa Deve toccare Ah quel pannellino Che c'è giù Ok E se tanto Mi da tanto Funziona Miro qua Tac Poi tiro la leva Questa era posizionato bene No Questo deve mirare su Perfetto A posto E quelli dovrebbero essere posizionati correttamente Quindi tiro Tac 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 E abbiamo attivato l'ascensore Che se ne va E che se ne va lui Perché lui Dovremmo attivarlo Quando noi siamo lì sopra Praticamente No Tenta Facciamo niente qua Ok Entro Oh in teoria Devo premere la leva Da dentro l'ascensore Tac Premuto Sì Ok E me ne vado Ora sì Ora sì E me ne vado Non so dove Ma ci vado Perché dobbiamo cercare Di uscire Da questa situazione Da questa scuola Che non è più una scuola Ma faccio il giro Siamo proprio Negli inferi Di questo postaccio E' sicuro Posso buttarmi Io mi butto Non me lo faccio dire Due volte Quando c'è da buttarmi Io mi butto A posto Adesso si scoprì Che siamo al punto Di partenza No Vedo una porta Lì Non è Sembra il posto Dove ho recuperato La batteria Invece no Allora Quindi Attacchiamo qua Comunque il primo nemico Ce lo siamo giocato Ragazzi Quanti nemici ci saranno Da qui ad arrivare A catnap Vado per di qua Non entra Ho finito il gioco No Non credo E niente Playhouse La casa dei giochi Ragazzi Non procedere Ma perché Salvataggio Ma perché Ho paura Quando mi spunta il salvataggio Io ho paura Press here Bobby B-Rug Oh cacchia Fatemi entrare Prima Prima di ammazzarmi Fatemi entrare Eh ve l'ho detto Che quando il gioco salva È un casino Ma ti potresti Fare gli affaracci Tuoi Guardalo là E là me la rascio Io me la devo rasciare Sempre in questo gioco Perché tu Non puoi esplorare Aspetta E qua ha trovato un buco No Cioè siamo perseguitati Da un orsacchiotto Da tanti orsacchiotti Non da un orsacchiotto Vabbè ragazzuoli Direi che per oggi Possiamo fermarci qua Visto che Ci sono morto Talmente tante volte Che Qua ci moriremo Altre tante volte Forse anche di più Quindi mi raccomando Voi lasciate sempre like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Attivate la campanella E perciò è tutto Al prossimo video